Il credito agevolato alle piccole e medie imprese in Sicilia, prossima la nomina di un commissario alla Crias, atteso il regolamento sul nuovo IRCA. Ascoltiamo in proposito il Presidente della Regione, Nello Musumeci. Proprio ieri ho voluto incontrare l'assessore alle attività produttive, lunedì si provvederà con la nomina di un commissario che consentirà di poter firmare le pratiche per il finanziamento per il credito agevolato. Il regolamento per l'IRCA che nasce dalla fusione dell'IRCAC con la Crias è già pronto, sarà presentato lunedì mattina dagli assessori Armao e Turano ai rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli artigiani e del mondo imprenditoriale cooperativo. Quindi ragionevolmente io credo che non appena avremo il visto del CGA l'IRCA, il nuovo ente che semplifica la procedura potrà essere funzionante fra gennaio e febbraio. Perché c'era stata anche la dimissione del Consiglio di amministrazione della Crias in merito a questa cosa. Sì, sì, sì. E anche in assenza del Consiglio di amministrazione si poteva procedere. C'è stata una lettura, diciamo, un'interpretazione ristrettiva della norma e quindi le pratiche non hanno avuto seguito. Ormai siamo all'ultimo capitolo, con il provvedimento che adotteremo la prossima settimana, finalmente la Crias potrà liquidare le centinaia di prestiti assai importanti, alcuni anche essenziali per le imprese artigiane.